Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su Tableau. Oggi vedremo una breve panoramica dell'interfaccia di Tableau. Apriamo come al solito il Sample Store Europa, direttamente dal link qui sotto, e si aprirà la nostra schermata principale. In alto abbiamo il menu, suddiviso in categorie, in cui abbiamo praticamente la totalità di tutte le opzioni e comandi presenti in Tableau. Subito sotto abbiamo la toolbar, in cui abbiamo i comandi sotto forma di bottone, quelli più utilizzati. Se ad esempio adesso prendessi le vendite e le categorie, abbiamo ad esempio questo pulsante Clear Sheet, che ci permette, se lo clicchiamo, di cancellare tutto quello che è stato fatto, o se ad esempio decidiamo di ordinare le nostre barre, potremmo andare a cancellare direttamente il sorting, l'ordinamento che abbiamo fatto. Abbiamo il pulsante per salvare. Tableau non effettua nessun tipo di salvataggio automatico, quindi se avete paura di perdere tutto il vostro lavoro, salvate di frequente. Abbiamo il pulsante Annulla e ripristina le azioni eseguite, e questo è il pulsante della Start Page, che ci porta alla schermata iniziale, dove possiamo scegliere una fonte a cui connetterci. Se riclicchiamo qui dove c'è l'icona di Tableau in bianco e nero, ritorniamo nella schermata principale del nostro foglio di lavoro. Qui sulla sinistra abbiamo la nostra colonna con i dati, la finestra dei dati. Subito prima abbiamo la fonte di dati a cui ci siamo connessi, cliccando con il tasto destro abbiamo tutta una serie di opzioni che riguardano la fonte dei dati. Se adesso io andassi ad aprire un'altra fonte, vediamo che i miei due database sono elencati uno sotto l'altro. Cliccando sul Sample Superstore avrò tutte le voci che riguardano il Sample Superstore, cliccando su World Indicator avrò le voci che riguardano invece questo altro secondo database. Tutte le voci del nostro database vengono suddivise in dimensioni e misure, già sappiamo che le dimensioni sono i campi descrittivi, mentre le misure sono campi che contengono i numeri, e in caso avessimo anche creato dei set e dei parametri, vengono elencati subito sotto. Se andiamo ad aprire ad esempio il menu format o il menu della mappa, in questo momento non possiamo selezionare niente perché non stiamo facendo una mappa come tipo di grafico, però vediamo che questo pannello si va a sovrapporre a quello dei miei dati. Per chiuderlo e per ritornare a visualizzare i dati, basterà cliccare qua sulla X, si chiude il pannello e ritornano i nostri dati. La colonna dei dati può anche essere minimizzata e poi riportata nella sua posizione originale, cliccando su queste due freccettine in alto a destra, e qua in basso invece abbiamo la barra di stato in cui abbiamo delle informazioni riepilogative sui nostri dati. Ad esempio in questo momento ci sta facendo vedere che stiamo vedendo tre mark, uno per ogni categoria di prodotto che abbiamo nei nostri dati, una sola riga le vendite e un totale delle vendite pari a 2.938.000, eccetera, eccetera, eccetera. Accanto al menu dei dati abbiamo il menu Analytics, che poi è lo stesso che troviamo, troviamo le stesse voci che abbiamo qua nel menu intero Analysis, e vediamo che possiamo selezionare tre diverse categorie di elementi analitici. Ad esempio in questo momento boxplot non è selezionabile perché sto facendo un grafico su quale non può essere sovrapposto un boxplot. possiamo invece ad esempio o la stessa cosa vale anche per la trendline, non possiamo mettere una trendline sulle barre, possiamo ad esempio inserire una linea che ci dica dov'è la media e vediamo che quando noi trasciniamo nella visualizzazione l'everage line ci chiederà se vogliamo inserirla a livello di tutta la tabella, quindi un valore medio di tutti i nostri dati, se cambiamo la nostra visualizzazione in una riga e andiamo a mettere l'order date al posto della categoria, vediamo che la trendline sarà presente, potremo decidere se inserire quella lineare, logaritmica non è disponibile con questi dati oppure esponenziale, polinomiale, eccetera, eccetera, eccetera. qua in basso abbiamo tre pulsanti per creare un nuovo foglio, una nuova dashboard o una nuova storia, i fogli possono essere trascinati, proprio trascinandoli con il mouse a destra o a sinistra, possiamo assegnare un colore a ogni foglio, ad esempio per sottolineare quali sono i fogli che magari riguardano lo stesso tipo di analisi, il foglio può essere duplicato o anche cancellato o rinominato direttamente cliccando con il tasto destro e in caso in cui avessimo talmente tanti fogli da finire tutto lo spazio in orizzontale potremo scorrere con questi comandi qua in basso che ovviamente si attivano solo se ce n'è la necessità potremo scorrere tra i fogli e vederli tutti quanti. All'interno dell'area di lavoro abbiamo dei pannelli, abbiamo prima di tutto righe e colonne nel quale possiamo trascinare misure e dimensioni, possiamo trascinarli in righe e colonne come possiamo anche trascinarli direttamente all'interno del grafico sarà poi tablo a metterli in righe e colonne per noi abbiamo il pannello dei mark in cui possiamo andare a scegliere il tipo di mark possiamo trascinare dei valori per andare a colorare i mark in base alle misure o alle dimensioni possiamo scegliere la dimensione dei nostri mark possiamo decidere di mettere un'etichetta e possiamo anche decidere cosa far vedere quando mettiamo il mouse sopra a un mark se vogliamo nascondere le leggende che si creano automaticamente quando interagiamo con colori, dimensioni e shape possiamo semplicemente cliccare con il tasto destro sulla freccettina nell'angolo a destra e scegliere hide card se poi lo vogliamo reinserire ci basterà cliccare col tasto destro in una zona qua grigia libera e selezionare legend e andare a reinserire quella che vogliamo possiamo anche scegliere legend e togliere una che non vogliamo la stessa cosa si può fare dal menu analysis legend possiamo mettere o togliere le leggende che non ci interessano se passiamo alla schermata del dashboard vediamo che è simile ma non del tutto uguale a quella del foglio di lavoro qui sulla sinistra anziché avere le misure e le dimensioni avremo l'elenco dei nostri fogli che abbiamo creato che possono essere trascinati all'interno dell'area di lavoro e qua in basso abbiamo tutti gli strumenti che servono per costruire un dashboard e per impostarne le dimensioni stessa cosa vale per la finestra della storia è molto simile a quella del dashboard abbiamo l'elenco di tutti i fogli di lavoro e anche dei dashboard creati e in basso abbiamo tutte le opzioni per impostare la nostra storia bene, la nostra carrellata dell'interfaccia utente di Tableau è finita ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao